Oggi all'Università di Teramo c'è la presentazione di un documento degli studenti da sottoporre all'attenzione dei nuovi candidati sindaco. Sì, è un documento che è intitolato Teramo città universitaria 2023-2028, che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio degli studenti dell'Università di Teramo. In questo documento ci sono delle proposte che sottoponiamo ai candidati sindaci e che auspichiamo che chiunque sia il vincitore di questa tornata elettorale possa realizzare, quanto noi chiediamo, in tema di trasporto pubblico, di residenzialità, di coinvolgimento degli studenti e dei giovani nella vita cittadina. In particolare sul trasporto chiediamo un'intensificazione delle linee 6 e 7, che comunque servono all'università. Sulla residenzialità chiediamo che ci siano comunque degli sgravi o comunque dei vantaggi per i proprietari affinché siano portati ad affittare le case agli studenti visto che c'è carenza di alloggi e non c'è una residenza universitaria al momento. Chiediamo anche che ci sia una revisione dell'accordo territoriale sulle locazioni, che al momento prevede un aumento del 15% delle locazioni per gli studenti universitari. Chiediamo che questi candidati sindaci si impegnino in questo senso, a favore comunque di una città che non sia più una città solo con l'università, ma una città realmente universitaria. A proposito del coinvolgimento degli studenti, verranno intervistati i propri candidati per presentare i loro progetti? Sì, per i candidati abbiamo realizzato 5 domande. Saranno le stesse per tutti e tre i candidati, anche per una questione di parcondicio. Avranno 5 minuti di tempo per ciascuna domanda per rispondere. Sono comunque delle domande che noi faremo per capire qual è il loro progetto per la città e per una città universitaria. Quindi sono comunque domande che riguardano i temi affrontati all'interno del documento del Consiglio degli studenti.